diciamo che le premesse sono abbastanza improbabili ecco veramente roba da irriducibili e roba da irriducibili giuseppe i lacci occhio 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 grande ipertecnico giuseppe oggi preparato alle temperature più estreme non lacerata l'ombrello una cosa orrenda bene bene io il poncio invece io poi il mega poncio trasparente si non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.